Dopo oltre 5 settimane in zona rossa la Puglia torna da lunedì 26 aprile nell'area di rischio arancione insieme a Valle d'Aosta, Basilicata, Calabria e Sicilia in un'Italia per il resto totalmente gialla ad esplosione della Sardegna l'unica a rimanere in rosso. E' stato deciso oggi al termine di una mattinata convulsa durante la quale a un certo punto si è ipotizzato addirittura un doppio salto direttamente in zona gialla, una decisione che sarebbe stata un azzardo visto che anche oggi i numeri della pandemia sono elevati, intanto quello dei morti, ben 64 nella nostra regione con un indice di positività che supera ancora il 12%. Vediamo allora concretamente cosa cambia dal lunedì con la zona arancione. Per gli spostamenti sono consentite visite a parenti e amici per una volta al giorno solo nel proprio comune di residenza. Possono muoversi al massimo quattro persone insieme e non più due oltre ai figli minori. La novità del nuovo decreto è che possono spostarsi fuori dal proprio comune coloro che sono muniti di certificazioni verdi Covid-19 che documentano l'avvenuta doppia vaccinazione o l'avvenuta guarigione o l'aver effettuato un tampone antigenico molecolare nelle 48 ore precedenti lo spostamento. Per le attività commerciali saranno di nuovo aperti tutti i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Nei centri commerciali i negozi delle gallerie saranno chiusi ancora nei festivi e nei prefestivi. Restano chiusi i bar e i ristoranti ma sono consentiti l'asporto e la consegna a domicilio dalle 5 alle 22. Per le attività sportive saranno consentiti all'aperto passeggiato o corso a piedi e l'uso della bicicletta con la quale si potrà uscire anche dal proprio comune. Sarà possibile svolgere attività sportiva individuale, sport non di contatto come tennis, spadello o golf. Restano chiusi palestre, piscine e campi di calcetto. Per le scuole la situazione più complessa. La zona arancione prevede le elezioni in presenza al 100% dall'infanzia sino alle medie e con una presenza minima del 70% nelle superiori. In presenza anche esami e tesi di laurea nelle università dove viene suggerita l'attività didattica prioritariamente in presenza. Ma è probabile che il presidente della regione Michele Emiliano emetta nelle prossime ore una nuova ordinanza con cui prorogherà sino alla fine dell'anno scolastico la facoltà delle famiglie di proseguire con la didattica a distanza. Per la Puglia dunque scatta il cambio di fascia dopo sei settimane in rosso. Secondo i dati dell'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità in Puglia l'ERECONTI è pari allo 0.84 con una classificazione complessiva di rischio moderato. Ma ancora alto resta l'indice di positività che oggi è del 12,6% rispetto al 15,1% di ieri. 13.345 test effettuati di cui 1.692 sono risultati positivi ossia il 12,6% 64 i decessi nella regione, 5 dei quali a Brindisi. La situazione dei casi per provincia Brindisi 155, Lecce 176, Taranto 277, Bari 658, Foggia 266, BAT 154. La situazione in provincia di Brindisi continua a essere preoccupante. Sono 155 nuovi casi positivi secondo il bollettino di oggi. Ma ciò che balza agli occhi è soprattutto l'incidenza dei casi che continua a salire. Oggi è di 217 casi ogni 100.000 abitanti e la nostra provincia si ritrova al decimo posto in Italia in una classifica in cui 4 degli altri 9 posti sono occupati da province pugliesi nell'ordine Bari, Taranto, BAT e Foggia per un'incidenza complessiva della Puglia che risale a 235 casi su 100.000 abitanti. Piccoli segnali di miglioramento negli ospedali che secondo il rapporto quotidiano di Agenas segnano un punto in meno nell'occupazione delle terapie intensive con il 43% e anche nelle aree mediche con il 47%. Tornano invece a salire i ricoveri nei due ospedali Covid-Brindisini dove si registrano anche due decessi. Due decessi al Perrino, un uomo di 64 anni in medicina interna e una donna di 77 anni al pronto soccorso. 135 complessivamente i ricoveri nei due ospedali Brindisini, 77 dei quali al Perrino, 19 in malattie infettive, 22 in pneumologia, 26 in medicina interna, 10 in rianimazione, 58 a Ostuni, 32 in medicina interna, 26 in pneumologia, 45 post-Covid, 9 a Mesagne, 10 a Ceglie Messapica, 8 a Cisternino, 18 a San Pietro Vernotico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.